Caos e rifiuti. Iole Santelli stoppa la nuova ordinanza proposta dal superdirigente Pallaria, nuo all'ampliamento della discarica privata a Crotone e intanto sui territori si rischia una nuova paralisi del settore. Lotta al virus, vertice a Catanzaro con i prefetti, la regione e i rappresentanti della sanità pubblica, alvaglio gli studi di fattibilità per il potenziamento dei reparti specializzati nella cura al covid-19. Nessun pericolo, dopo l'allarme scattato nei giorni scorsi su un presunto focolaio all'interno del Tribunale di Vibo Valencia, rassicurazioni arrivano direttamente dal procuratore Camillo Falvo. I nostri uffici, dice, sono tra i più sicuri. Belle e impossibili. Tropea, Siderno e Rocca Imperiale conquistano la bandiera blu. Tra conferme nuovi ingressi, ecco le località balneari migliori della Calabria, ma questa estate chi potrà andare al mare? Troppi dubbi. In vista della ripartenza aumentano le perplessità degli operatori economici sulle nuove regole anti-coronavirus da seguire. Ai nostri microfoni il grido d'allarme di balneari e ristoratori.